Buon pomeriggio a tutti da Pietro Sfataro. Allora, questo è il video per quanto riguarda i risultati della 32esima giornata di Serie A. Allora, vi dico i risultati. Spalle Juventus 2 a 1, una Juve che fa turnover, che la festa Scudetto è stata rimandata per la prossima domenica, che sarà contro la Fiorentina all'Allianz Stadium. Vabbè, poi andando avanti, Roma-Odinese 1 a 0. Finalmente Dzeko torna a segnare proprio in casa della Roma. Milan-Lazio 1 a 0. Diciamo che per me è stata una partita un po' equilibrata, diciamo, ma il Milan è stata molto brava, diciamo, ma con alcune polemiche, che sono alcuni antisportivi che hanno mostrato la maglia da Cerbi a fine partita che non mi sono piaciuti. C'era pure un rigore per la Lazio per un fallo su Milinkovic-Savic, però attenzione. Torino-Cagliari 1 a 1. C'è. Ho visto tre espulsioni. Zazza, quando gli ha fatto fallo, gli ha mandato a quel paese l'arbitro, che non gli è piaciuto l'arbitro e l'ha fatto espellere. Fuori. Che salta la prossima partita. Poi c'è stata un'altra espulsione di Barella e poi quella del difensore centrale. Poi un altro. In dieci contro nove è finita. Infatti pareggio è finito. 1 a 1. Gol di Zazza e di Pavoletti. Quando ha annullato il gol di Pavoletti, ha ricontrollato il VAR e l'arbitro ed il gol era buonissimo. Non era fuori gioco. Sassuolo-Parma 0 a 0. Sassuolo ha sprecato tanto. Il Parma ha avuto una grande occasione sul calcio di rigore di Ceravolo. L'ha tirata a destra e consigli, intuisce e para, che protegge lo 0 a 0. Sampdoria-Genua 2 a 0. Il derby della Lanterna è della Sampdoria, con reti di Defrelle e Quagliarella. C'è stata un'espulsione di Biraschi per fallo di mano. Nel secondo tempo, Rosso. Il rigore è segno a Quagliarella. Fiorentina-Bologna 0 a 0. Fiorentina-Sprecona, come al solito. Io ho detto che il Bologna portasse via almeno un pareggio. Nei miei pronostici l'ho detto, precisamente. Il Bologna ha avuto una grande occasione. Quando la porta era vuota, Orsolini ha tentato e stava quasi vicino al colpaccio il Bologna. Infatti 0 a 0 è finita. È l'ennesimo palo che prende Muriel. Andate a rivedere gli highlights, che l'ho visto preciso. Chievo-Napoli 1 a 3, che ha fatto rimandare la festa alla Juve. Già un Chievo che matematicamente è ufficialmente in serie B l'anno prossimo. Il Napoli che fa doppietta con Goulibaly e Milik. E poi Cesar a Corcia. Frosinone-Inter 1 a 3. Bella anche l'Inter. Che prende altri tre punti importanti. Correti di Nainggolan. Perisic su rigore. A Corcia a Cassata. E di contropiede fa Vesino. L'1 a 3. Atalanta-Napoli. Volevo dire Atalanta-Empoli. Atalanta-Empoli 0 a 0. Cioè l'Atalanta ha fatto 47 tiri e l'Empoli ha detto di no. Cioè a Dragoschi ha parato tutto. L'impossibile ha parato. A Dragoschi io il voto gli ho dato un bel 10. Che ha preso un punto pesante a Bergamo. L'Atalanta il pareggio non gli serve a nulla. L'Empoli sì per la corsa salvezza. Allora non vi ho detto alcuni infortunati della Juventus che ci sono stati ieri sera. Allora ci sono stati due infortunati. Allora per il infortunato in allenamento per il dolore alla spalla. E Mandzukic per un infortunio al tendine. Che salteranno entrambe l'Ajax. Allora in Regione ma i tuoi dei recupereranno per l'Ajax. E non ce la faranno forse Douglas Costa e Chiellini. Dayong non giocherà di sicuro. Di quello che ho visto alcuni youtubers poco fa. Vabbè raga la festa dello scudetto è stata rimandata. Come ho detto nel mio precedente post partita. E infatti è accaduto. Vabbè raga non ho nient'altro da aggiungere. Se il video di oggi vi è piaciuto vi invito di lasciare un mi piace. Di commentare qui sotto. Se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche sui miei prossimi video che usciranno. Stasera ci sarà una grande partita. E bisogna scatenare l'inferno. Ci vediamo domani per il post partita di Juventus Ajax. E forza Juve. Ciao belli. Ciao.